In un mondo che implora di essere rischiarato dalla luce della speranza, la bellezza e il fascino della famiglia restano segni dell'amore di Cristo. In Vaticano proseguono i lavori della Terza Assemblea Generale Straordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema le sfide pastorali della famiglia nel contesto dell'evangelizzazione. La dodicesima congregazione generale ha visto la presentazione delle relazioni dei dieci circoli minori suddivisi per lingue, due in francese, tre in inglese, tre in italiano e due in spagnolo. I diversi gruppi hanno espresso una valutazione della relazio opposta di Ceptazionem, oltre a possibili suggerimenti da inserire nella relazio sinodi, il documento definitivo e conclusivo dell'assise. I padri sinodali hanno quindi auspicato un riferimento più ampio al messaggio positivo del Vangelo della famiglia, al fatto che il matrimonio come sacramento, unione indissolubile tra uomo e donna, è un valore ancora molto attuale e che è un dono di Dio. Ulteriori indicazioni sono state orientate a temi quali l'adozione, la diffusione della cultura tramite web, la presenza degli anziani all'interno dei nuclei familiari e alle famiglie che vivono in condizioni di estrema povertà, denunciando anche i drammi della prostituzione, delle mutilazioni genitali femminili e dello sfruttamento minorile a scopo sessuale e lavorativo. Quanto alle situazioni familiari difficili, i circoli minori hanno evidenziato che tutta la chiesa deve essere casa accogliente per tutti, affinché nessuno si senta rifiutato. Tuttavia è stata auspicata una maggiore chiarezza, evitando confusione, tentennamenti ed eufemismi nel linguaggio. Grazie. Grazie. Grazie.